Si terrà a Gauro il 26 dicembre alle ore 16.30 all'evento a passeggio con il paesologo, inserito nell'ambito del cartellone dei borghi del Natale. Lo scrittore Franco Arminio condurrà i presenti in una passeggiata storica tra le strade del borgo, scandita dalla lettura dei suoi brani. A seguire, come da programma, la proiezione del docufilm di mestiere Faccio il paesologo del regista Andrea D'Ambrosio.